Negli anni 50 inizia la sua carriera come attore teatrale, facendo parte prima della Compagnia del Teatro Stabile di Genova e del Piccolo Teatro di Milano, poi collaborando con il Teatro Stabile di Torino. Ziovania, di Cechov, 1977, I giganti della montagna, di Pirandello, 1979, diretto da Mario Ferrero, ha interpretato, nel 1968, il ruolo di Lopakin nell'opera Il giardino dei ciliegi di Anton Cechov. Dal 1983 ha formato una propria compagnia, presentando tra l'altro Sir Todero Brontolon di Goldoni, 1983, Uno sguardo dal ponte, 1984, ed erano tutti miei figli, 1989, di Miller, Il gabbiano di Cechov, 1990.